Stasera l'argomento è complicato, ma cercheremo di renderlo semplice con i nostri ospiti che presento. Donato Masciandaro, che farà la relazione introduttiva, Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato Nexi, Guido Maria Brera, finanziere iscrittore e cofondatore del gruppo Kairos, Ferruccio De Bortoli, il mio direttore, posso dirlo, è stato il mio primo cavo redattore, Fabio Divizio, sostituto procuratore del Tribunale di Firenze, Raffaele Mauro, Managing Director in Deavor e Valeria Portale, direttore dell'osservatorio Blockchain. Cercheremo di capire che cosa sono i Bitcoin, già immagino che ci sono alcuni che ritengono siano la grande possibilità per diventare ricchi, altri pensano che sia la grande possibilità perché tutti possano diventare più poveri, cercheremo di capire dove si situa, non dico la verità, ma il tentativo di comprensione di che cosa sono e come possono o stanno già cambiando il modo di fare finanza o di fare pagamenti. Inviterei sul palco l'ingegner Carlo Pesenti, presidente della Fondazione Pesenti. Grazie.